Ben trovati, oggi siamo all'Hotel Regina Margherita per un evento, una tre giorni a Cagliari, che vedrà l'internazionalità del cibo, della cultura fra Sardegna e Umbria. Ce lo facciamo raccontare da Gianluca Moretto. Ciao Umberto, abbiamo creato questo gemellaggio con l'Università per gli Stagneri di Perugia ad aprile. Per il 20 di aprile abbiamo fatto il primo gemellaggio Sardegna-Umbria perché siamo andati a Perugia, abbiamo portato i nostri prodotti e abbiamo creato un contest gastronomico con 10 ristoranti a Perugia con l'idea di fare la stessa cosa a Cagliari. Infatti adesso, come hai già detto tu, il 16, 17 e 18 abbiamo questo contest gastronomico che si farà a Cagliari. 12 ristoranti del quartiere Marina andranno a proporre questo menù delle regioni Umbria-Sardegna dove ci sarà una giuria importante, Enrico De Flinger che è stato chef della Casa Reale, c'è Alberto Lupini e 5 chef stellati che non solo giudicheranno i ristoranti che hanno omaggiato meglio le due regioni ma poi andremo a chiudere il 18 dicembre con un gran galà al Regina Margherita dove tutti gli chef stellati andranno a realizzare questo gemellaggio Umbria-Sardegna.